Ciao a tutti ragazzi sono Coridan e ancora una volta ben ritrovati nel mio canale Ben ritrovati in questa quindicesima domenica ludica In cui vorremmo apportare un'altra leggera modifica al format Perché era una cosa che ci interessava da diverso tempo E che fra tante cose, tanti progetti, tante idee che abbiamo sul canale e tante altre che ne vorremmo portare C'era un po' passato di mente ma vediamo di farla e di riportarla in vita Perché appunto ci interesserebbe come nuovo progetto da portare sul canale e da incastrare ovviamente in mezzo a tutti gli altri Ma ve ne parlo a breve dopo la sigla Vi ricordate che la volta scorsa vi ho detto che una cosa importantissima su cui io e mia moglie teniamo veramente tanto e a cuore per il canale Sono i nostri social che sono principalmente Facebook, sono ormai da 7-8 anni comunque dedicato al canale di Coridan E poi abbiamo aperto la pagina Instagram Maledetti Dadi e ho aperto anche il gruppo Telegram Tanto trovate tutto quanto in descrizione Gruppo Telegram tra l'altro pubblico quindi possiamo trovarci per parlare, scambiare idee e cose varie Ovviamente sempre solo sui temi del canale E volevamo trasformare leggermente alla fin fine perché già la domenica ludica da evento live che rifaremo in futuro L'abbiamo trasformato in un video che esce tutte le domeniche alle 7 salvo ovviamente cause maggiori E volevamo introdurci un'altra piccola modifica o per meglio dire farlo un pochino più open source Volevamo parlare di argomenti ma soprattutto fare una cosa open source con voi Quindi andremo a scegliere le domande che ci interessano di più Comunque nel caso ce ne fossero poche le prendiamo tutte 5-6 Nel caso ce ne fossero tante magari ci facciamo più video o prendiamo quelle che ci interessano di più E queste domande ce le potete fare direttamente o sotto il video questo Quindi commentando sotto questo video della domenica ludica Oppure domande magari anche qualcosa di vecchio che scappate negli ultimi video Nei video un pochino più vecchi o su Facebook o su Telegram Che lì scrivetevi è la cosa più importante anche perché possiamo confrontarci Lo guardo regolarmente tutti i giorni O su Instagram nostro della pagina Maledetti Dadi Fateci delle domande a cui noi andremo a rispondere direttamente citando il vostro nome Come proprio ci metto facendo vedere il vostro commento con il nome della persona che l'ha fatta e tutto quanto Sia esso sui social oppure direttamente come commento sotto il video Non volete andare sui social per quanto vi invita a andarci perché è importante per le info che ci mettiamo regolarmente Potete commentare anche sotto il video Io ritaglio, lo metto insomma in impressione e vi rispondo alla vostra domanda Ovviamente domande che siano sempre comunque inerenti agli argomenti che trattiamo sul canale Quindi principalmente board game, board game table top game Quindi tutto board game, war game, skimish game, giochi di carte, giochi di minature Insomma qualsiasi cosa Diorama anche perché no GDR che è un'altra parte importantissima E che GDR inizierò a portarli regolarmente sul canale anche perché c'ho un mobiletto pieno C'ho io penso almeno una trentina di nuovi GDR Più altri due vecchi che sono riuscito a ritrovare dagli anni 90 grazie al mio amico e socio Pippo E mi piacerebbe portare tante giocate di ruolo sul canale In più terza parte importante tabletop GDR le stampe 3D Perché anche sul nostro canale li vogliamo dedicare una buona parte Un terzo del canale lo vogliamo dedicare totalmente alle stampe 3D Perché è una cosa che ci interessa da morire Ed è una cosa che sta riscuotendo anche un certo interesse Verso altre aziende comunque europee che ci stanno contattando per inviarci del materiale E quindi questo ci riempie anche di un orgoglio disumano Se fra qualcuno di voi ci fossero degli interessati alla pittura Mia moglie ha aperto anche un suo canale Telegram Dove ovviamente sono anch'io ma che lo gestisce lei Dedicato interamente alle stampe 3D e alle pitture Soprattutto in particolar modo alla pittura Quindi anche quello ve lo lascio come quarto link in descrizione Ci sarebbe tanti argomenti di cui parlare in questa domenica ludica Quello che mi preme è ricordarvi E vi lascio ancora un altro link in descrizione Andate a vedere il Kickstarter Secondo me più bello e che mi ha intrigato più di tutti È quello che dovrebbe essere ancora aperto se non erro Il Kickstarter di Nemesis Lockdown Nemesis Lockdown è la nuova espansione però stand alone Quindi nemmeno tanta espansione È proprio uno stand alone in un altro gioco Nella stessa ambientazione di Nemesis E la cosa bella è che questa volta è ambientato sul pianeta Marte Non su una nave spaziale, non sulla Nemesis Ma in una stazione orbitale, proprio sul pianeta rosso E voi sarete un gruppo di personaggi che è andato male Un esperimento classico all'Alien Si sono risvegliati dei nuovi tipi di alieni di Xeno E voi dovrete sopravvivere La cosa bella è che potete comprare un gioco base Che non mi ricordo se viene 70-80 euro Insomma prendete Nemesis con tutti quanti Lockdown Con tutti quanti gli stretch goal Oppure pagando 130-140 euro Più spese postali, ovviamente sdoganamenti e cose varie Vi portate a casa anche Nemesis con tutte le espansioni Che ora non vi faccio vedere che ho lì Che sono Aftermath e Void Seeker Terrene Expansion e poi Icarnomorph Più ovviamente anche tutti i vecchi stretch goal Quindi tutti quanti i fumetti Che tra l'altro sono due fumetti giocabili a livello di campagna E non meno importante Lo Space Cat Segnaturni Che è la miniatura più bella che abbia mai visto Se volete anche lasciare un commento senza domande Ma un puro saluto Ve lo metto uguale nel video per farvelo vedere tutto quanto Però se è un commento Ve lo metto direttamente in sua impressione Ve lo leggo e vi rispondo nel prossimo video Quindi tutti i commenti che saranno le domande Non tutti i commenti scusate Che rischio Tutte le domande che saranno sotto questo video O se non volete mettere sotto il video Nei nostri social Comunque metteteci una tag Qualcosa che mi faccia capire Che è per la prossima domenica ludica Quindi che ne so Un hashtag davanti Domenica ludica Prima della domanda Vi risponderò Nella prossima domenica ludica Nei limiti del possibile Risponderò a tutte le domande Ovvio se sono massimo Magari una decina Anche perché poi lo sentite Sono particolarmente Prolisso e logorroico Quindi alla fin fine Se fossero tante domande Magari un po' le scelgo per questa domenica Un po' le metto in quell'altra Comunque nessuna domanda andrà speccata Ovvio Domande stupide Nemmeno le guardo Commenti stupidi Nemmeno le guardo E li blocco e li banno O anche domande in base ai videogiochi Ragazzi non mi interessa più niente Vi dico soltanto Che è uscito The Last of Us 2 E The Last of Us 1 Io lo ridico anche tuttora È il mio gioco preferito Di tutti i tempi Ve lo giuro Per me il gioco più bello Non c'è a livello d'avventura Del 2 Non me ne frega niente Cioè non c'ho l'hype di giocarlo Non c'ho l'hype di comprarlo Magari sicuramente Fra un anno o due Che lo troverò in offerta Magari anche prima A prezzo pieno Me lo giocherò Di sicuro Ma di videogiochi Non me ne frega più niente Proprio ciò ho perso Completamente interesse Succede prima o poi nella vita O a volte E è capitata anche a me Quindi vi ricordo Di fare le vostre domande Metteteci davanti Sempre il cancelletto Domenica ludica E poi mi fate la domanda Così in tutti i social Ovunque sia questa domanda Io so che è una domanda Collegata al video E vi rispondo direttamente Ragazzi fatemi sapere Cosa ne pensate Andate a vedere Nemesis Lockdown Perché secondo me È il kickstarter più bello E dovrebbe anche essere Ancora in atto Magari faranno anche Un late pledge Quindi andate a vedere Fatemi sapere cosa ne pensate Aspetto un po' di domande E ovviamente passate Una buona domenica Ciao ragazzi alla prossima